Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, Fedez e Ferragni si sono lasciati, questa è la novità che viene rilanciata senza posa da tutti i principali e più venduti quotidiani, Fedex a questo punto diventa Fedexex, Fed-ex, scusate la battuta non mi sono trattenuto, però effettivamente siamo nella società dell'alienazione planetaria e quindi non ci stupiamo affatto che i quotidiani parlino solo di questo, ovviamente cogliendo l'occasione per spostare l'attenzione rispetto ai drammi che sconvolgono il nostro presente, da Gaza all'Ucraina, dalla miseria neoliberale ogni giorno crescente ai morti sul lavoro, niente, si parla solo di Ferragni e Fedez, del resto come bene diceva Lukács nella società capitalistica la vita avvizzisce tra stravaganza e alienazione e questo ne è un esempio ulteriore, chissà per quanto tempo ancora parleranno di questa vicenda, intanto si continua a discuterne, del resto Fedez e Ferragni hanno in qualche modo reso pubblica e di pubblico dominio la loro esistenza con foto, post, commenti e dunque non stupisce che sia andata in pasto all'opinione pubblica anche questa vicenda, insomma una prova ulteriore della miseria neoliberale dove si parla soltanto di queste vicende del tutto irrilevanti pur con tutto il rispetto per Fedez e Ferragni, insomma la loro vicenda è la vicenda di molte coppie che finiscono in qualche modo, direbbe Platone che evidentemente non erano l'anima gemella l'uno per l'altra e quindi l'amore è finito, secondo Platone non finisce quando si trova realmente la propria anima gemella, quando si ricompone l'unità originaria che un tempo fumo, intanto la società dello spettacolo continuerà a tediarci con questa vicenda chissà per quanto tempo ancora.